Si riesca un po' di restare senza parole, tra colpi di scena non sempre positivi soprattutto. Una partita che sembrava anche messa sui binari giusti, non era cominciata. Non era cominciata sui binari giusti e arrivare a fine primo tempo, come non fosse il risultato meditano, perché abbiamo fatto partita e abbiamo rischiato due ripartenze. Siamo finito, lo scusiamo da ripartenza dove sto bravo e poter apparare all'inizio di partita e poi l'azione dei rigoli, che sarà la commissione di genitalità, non era una necessità di fare caccia di rigoli. Bravi a reagire subito perché poi alla fine dai dai chiuso in antaggio il primo pericolo del 2 a 1 direi se non è stata fatta anche a livello di circolazione di palla, di sviluppo, di situazioni, di calocanare, di gioco, che sono in più di tempo, non capiscono la seconda. perché siamo stati più capaci di riproporre in fase di possesso, quindi lo sviluppo di manovra, secondo me è buona linealità, non si è riuscita a creare questo, ma in fase di possesso ci siamo passati tantissimo da lì nel centro campo, e quindi siamo stati più capaci di andare a prendere che ho avessi difficoltà, e poi ho creato parecchie 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 potenti. Poi ho fatto il secondo gol, il secondo gol mi sembra, mi sembra la salita, poi scriveremo la sera con il gioco meno, è relativo a quello che lo è salita, il secondo palo, Non mi sembra convinto. Com'è? Non mi sembra convinto. No, non ho una idea, veramente, non sto a discutere, perché non è lì la prestazione di qualsiasi risultato, perché chiaramente, che sono gol importanti. E dopo abbiamo preso un brutto 3, per avviare la prudenza tecnica perché balistica mi ha fatto perché l'ha fatta, ci viene a fare il gioco trattamente, non è che gli si tratta di difesa o non difesa, gli era un squalsierato che l'ha fatto per gol. Dopo un bel recupero, un rinvio... Eh, adesso stavo dicendo dell'ingenuità, erano usciti male a destra, adesso ho avuto un pallone a destra, grandissimo recupero, inizio diventano il fallo laterale, e si finisce l'azione e si ricomincia, è stata fatta un rinvio centrale, e poi quello vado dalla prudenza balistica. E' un periodo molto positivo sicuramente, il primo tempo mi lasciava sperare di restazione positiva, e invece, meno male che, alla fine la, dico la volta, nella squadra che non manca mai sotto questo aspetto di impegno, ti ha portato a pareggio, e anche l'occasione, dopo l'ultimo secondo, forse di fare, in tre secondo due pallone, e dentro la rapiglia, ti ha fatto dalla zappata, che ha zappato finale. per cambio, maioino per voi, perché non stava bene maiore. Ma che ho visto, all'inizio al secondo tempo, non ero si trovarmi due, e ho visto una difficoltà fisica, subito, ho fatto due accelerazioni, e mi ha rimasto lì, no, ma l'incorso anche di, ho preso detto, visto che non riuscirò più a risalire, a avere uno che davano contributo, al certo capisco, che non ha ancora le stesse caratteristiche, di crematista. Torniamo a parlare, a vista di equilibrio. Quello che si era trovato, in quel filotto, in cui la difesa, non prendere più gol, e qui, chiaro, non sono altri nomi, perché, al di là di come si chiama, di chi gioca, se i gol hanno più le tre partite, cominciano a essere un po' tanti, eravamo abituati bene, a meno, ci siamo abituati, per un periodo, a non prendere più gol, ma anche a punto di distanza in campo, visto che il ritorno, al momento del centro nato, che si abbassa troppo, cosa che forse, c'è anche il gol lo zola, nel finale? Nel finale, ma quelli sono destinati, o sul secondo tempo? Cioè, nel primo tempo, non abbiamo preso la fine, solo una ripartenza, cioè, una situazione importante, e si può concedere, ci sono anche gli avversari, e direi che una ripartenza, quindi la squadra anche l'ultima, è stata tutta aggressiva, tenuta le linee bene, e non ha, ripeto, un'occasione, e poi pure i moneri. Non c'è la necessità, non è la mano, non è un recupero, di un qualcosa, che non c'era messo tutti i contatti, la migenità. E quindi, primo tempo direi, non è un problema così, poi ci siamo passati, dentro quella passassima, non siamo venuti a prendere palla, per salire, per guadagnare calcone, essere alti nella pressione. quindi, le linee, forse non, purtroppo, piante, e basse, tutti, erano tutti a difendere, più che, a essere, a essere positivi, quindi è l'inverso, secondo me, un po' di quelle precisione, per un momento. Troppo a difendere, è un po' una faccia di, di, di gesti in parte, quel non è, c'era mai, mai una sola volta, iniferimento, una sola volta, non è successo, iniferimento, non siamo mai stati, un po', ma come mai, è dovuto mancare un po' da essere, cioè, ma, da tipo, si parla, se si discutiamo di linee, vediamo, quante, quante situazioni abbiamo avuto, o ad un'ora, quante situazioni abbiamo vincevuto, 0, fino a 99, 40 secondi, diciamo, che è preso d'accordo, che è preso d'uomo, allora, non c'è, non discutiamo, che è preso d'uomo, e quindi, vediamo la discussione, non c'è, non c'è, è un po' se non c'è, non c'è un po' tutto, non c'è, non c'è, uno, e poi, secondo me, ho preso un cross, e poi, ho preso un cross, ho preso un cross, oggi, in questa situazione, magari, si aggrave, ripeto, L'uomo di San Bianco è l'uomo di Moro, è uno contro uno, ha andato sempre a chiudere la strada e ha fatto anche a uno dei due. No, erano tutte due. San Bianco ha deciso invece di attaccare la palla di staccarsi, ha fatto questa scelta, ma erano due contro due. E quindi in situazioni di inferiore non erano mai prese, il cross secondo Paolo era tutta la squadra che era sul calcio piazzato, la squadra esceva a crociare e evidentemente si annita male, ma poi è nel senso da un calcio piazzato e la corso il terzo è fatto un gol da 30 metri. Quindi sono situazioni, pur che oggi un paio di volte nel primo tempo c'è stata una distrazione, ma è questione di venire, forse ci sono delle basse e compatte, fin troppo. Cioè non è il fatto che la squadra si sia abbassata? No, si è abbassata un troppo prima di riuscire a tenere la linea, è una simpatica, fin troppo vicino, fin troppo due a quelle che dipenderà. Non sono quelle però che hanno creato i due episodi, non sono quelle, c'è un certo relazione tra le linee piatte. Cioè è l'oggettività dello sviluppo delle situazioni. Anche semplice dire che in tre mesi mi sono in casa, questo problema delle linee piatte non dovrebbe nemmeno presentarsi o comunque... E a me assolutamente il tempo, voglio capire. Ma si adesso siamo al caldo, ognuno sai che può andare solamente parlando tra le linee, parlando con la squadra, poi puoi percepire che il primo tempo sto detto alziamo, quando ci passiamo inizio, per continuare su quello che c'era, una pressione, una stanza alta, un buon sviluppo di gioco nel senso di possesso che loro erano passi, che erano i tre alti, per ripartire non sotto i tre alti, ma un po' di più di più di più. Ma anche ancora poco meno, circa il 40% delle partite a disputare. E' sempre detto che il mese febbraio potrebbe essere decisivo, insomma. Adesso in tre partite fondamentali, anche così si presenti, sono in condizioni che non possiamo definire. In un momento non sono molto felice, questo senso, molto simile a quello che abbiamo avuto, proprio a livello di... di disportati in mezzo in questa azione, in questi partiti da buoni, in questi partiti meno buoni, nella fase di... lo sconfitto, però, di paroma, per quel periodo lì, che... c'era un pochino... perso i momenti. Domenica c'è una partita importante, il verbo, quindi... è una partita che può dare sul luciano, che c'è Alessandro Erezio di un ordine. C'è l'occasione di dover tirare fuori a meglio veramente tutto quello che si è provato fino a attorno, ma c'è la volontà di far male. Quindi, possiamo ne so di tempo e occasioni per riprendere il passo ci sono? Ma ormai il solito... Non ci dico niente del passivo? No, 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 lo dico che al momento in cui si pensa di adesso abbiamo questo, invece... sulle spalle, su una carta, la facenza... oggi il caravesi, medio-bassa classifica, quindi ci faccio... e invece... no, il capo non sta giocato sul campo. Non si possono fare né ipotesi, non servono nulla. Quello che conta, quello che serve è l'edizione, è lavoro, è attaccamento alla maglia, è gente... che si può fare bene, che si può subito riprendersi, che si crede in quello che si può fare. Questo è quello che serve poi a dimostrarlo sul campo. Parole, adesso io ho questo, quest'altro, che è troppo facile. Io dico, c'è un derby, perché il derby non è una partita... è una partita a sé, proprio per l'arte, come è sentito anche qui, e perché i derby sono questi, quindi questa è una partita... Né spartiamo né niente, ma particolarmente importante per tutto, per la classifica, per l'ambiente, per tutto quello... quello è un qualcosa di più, quelle altre partite. però bisogna s'interesse su quello che è oggi, non su quello che sarà l'anno. Oggi è così. D'accordo.